CombiPen Parma Quotidianamente CombiPen Cerca gli alberi di Natale dal Cine Vi troverai le sorprese più belle Sono a San Fiore, Pordenone, Mota di Levenza, Udine, Ponte nelle Alpi E ti offrono a prezzi scontatissimi Tutto l'abbigliamento per l'inverno e per le feste Per l'uomo, donna e bambino nel più vasto assortimento Regalati un bel Natale Scegli i negozi dal Cine La firma del risparmio A San Fiore, Pordenone, Mota di Levenza, Udine, Ponte nelle Alpi I negozi dal Cine a dicembre Sono aperti tutti i giorni Anche festivi Edilizia Cazzaro Giuseppe Materiali per l'edilizia, isolanti, ceramiche e sanitari Presenta Termopan Il pannello in polistirene estruso ha maggiore densità sul mercato Termopan Per il massimo isolamento dall'acqua Termopan Per un efficace isolamento termico Termopan Finalmente ora, anche in Italia Lo puoi trovare da Edilizia Cazzaro Giuseppe Annuale Via del Branco 6 Telefono 041 440341 Panto, leader europea degli infissi in legno Presenta Panto 2 Con nuove linee per casa e giardino Tende da sole Mobili in tech E in faggio laccato Pergolati in tech, rampanti e autoreggenti Gazebo coperti Verande su misura, immogano melanti Panto 2 è a disposizione nei centri di Sandonà e Padova Panto 2 La qualità esce all'aperto Molte cose che fino a ieri non potevi realizzare Oggi con i prestiti personali Sofit Fino a 60 milioni Diventano realtà La casa I mobili La tua auto Le tue vacanze La tua liquidità personale Telefono all'84 27 29 di Pieve di Soligo Con Sofit troverai la soluzione Signore e signori Siamo qui per presentarvi una grossa novità Si chiama Movie Movie è unico nel suo genere Perché è cinema, musica dal vivo e non solo E anche ristorante, pizzeria e snack bar Con Movie puoi vedere i film più belli Gustando le cose più buone Movie Grande apertura Sabato 15 dicembre In via Fausta A Carsavio Venezia Punta Savioni Movie Lo spettacolo Ha tutto un altro gusto Per l'uomo attuale e dinamico Allo Stop Moda Troverai una varietà di capi sportivi Di garantita qualità Con la consueta convenienza Degli sconti cassa E inoltre Grandi affari Con l'etichetta rossa Stop Moda Market Chiamale se vuoi Emozioni Non lasciare la tua pelliccia C'è il tuo montone chiusi nell'armadio Sceglie il buon gusto Usa il buon senso Strappi Macchie Scuciture Consumo Fuori moda Non sono un problema Buongiorno Buongiorno Piacere Che cosa possa essere utile? Sono venuta a fida a lei Perché avrei intenzione Di acquistare un capo Però vorrei essere sicura Di aver trovato Un vero esperto Della pelle Che sappia anche Risolvermi alcuni problemi Perché vede Io ho una pelliccia Da rimodernare Un completo in pelle Da smacchiare E mia sorella Ha un montone Da allargare Volevo sapere Se la Cugnial Ha un laboratorio Specializzato Per questi servizi Cara signorina La ditta Cugnial È nata come Laboratorio della pelle Produrre pellicce Montoni E ogni tipo di capi in pelle È proprio Il nostro lavoro Ecco perché Non abbiamo alcun problema A eseguire Qualsiasi riparazione Pollittura E rimessa modella Ma scusi la franchezza Come faccio A essere sicura Che lei è davvero La persona giusta? A me piacciono i fatti Venga Le faccio vedere Il laboratorio E come lavoriamo Vede Noi abbiamo Tutte le attrezzature Il personale Per risolvere Qualsiasi problema Qui noi Selezioniamo Le pelli Qui le tagliamo E qui le componiamo E qui le cuociamo Sì Mi rendo conto Che questo è un laboratorio Specializzato Che ci sono tutte le attrezzature E il personale competente Però tornando al mio problema Ho la pelliccia Con la fodera sgualcita E anche il modello Non è più molto attuale Il pelo però è bellissimo E siccome mi è stata regalata In un'occasione speciale Ci tengo particolarmente A portarla Volevo farla rimodernare Lei cosa mi consiglia? Sei da provare a vedere Il capo in questione Per fare una diagnosi Più completa Ma in questi casi Facciamo quasi sempre Una rimessa a modello Dando una linea Più attuale E aggiungendo delle pelle Venga Guardi la linea Di questa mamotta E la lavorazione È meravigliosa Le punte brillanti Abbiamo delle volpi Vinciate Volpi argentate Bisone E volpi di Urelandia Secondo me Questo bisone È proprio per lei La provi La sua pelliccia Diventerà praticamente Uguale a questa Che bella È bellissima Senta signor Pugnale Io ho un altro problema Il mio completo in pelle Si è macchiato È una pelle molto morbida E delicata E mi hanno detto Che dovrei addirittura Cambiare tutta la manica Senza nemmeno garantirmi Un buon risultato Lei che cosa mi consiglia? Senta Per una macchia Non si deve sostituire la manica Evidentemente Chi afferma ciò Non conosce Le più banali tecniche Di pulitura In tanti anni di lavoro Siamo riusciti A scoprire Tutti i segreti Della smacchiatura Togliamo le macchie Di caffè Di olio Di gelato E anche quelle di sangue E per il mantenimento Delle pelli E la custodia Di capi così preziosi? Anche in questo caso Le parole servono a poco Venga Le faccio vedere Dove teniamo in custodia I capi Quelli che produciamo noi E quelli dei clienti Questo è il soggiorno Che teniamo riservato Ai montoni E alla pelisse Tutto è sotto controllo E compoterizzato Umedità Temperatura E sicurezza Posso proprio stare tranquilla Qui i miei capi Si troveranno Veramente bene E al sicuro Ah eccoci qua E per il montone Di mia sorella Che è diventato Troppo piccolo È possibile Riadattarlo Soprattutto ne vale La pena Vede signorina Per esprimere Un giudizio definitivo Dovrei verificare La qualità Delle pelli impiegate Se le pelli Del suo montone Sono scadenti Le conviene comprare Uno dei nostri capi Come questo A giovanile Alla moda E costa poco Cugnal Emporio Pelle È a 90 di Piave A 1500 metri Dall'uscita autostradale In via Calnova Zona industriale Edilizia Cazzaro Giuseppe Materiali per l'edilizia Isolanti Ceramiche E sanitari Presenta Termopanna Il pannello In polistirene Estruso A maggiore densità Sul mercato Termopanna Per il massimo Isolamento Dall'acqua Termopanna Per un efficace Isolamento Termopanna Finalmente ora Anche in Italia Lo puoi trovare Da Edilizia Cazzaro Giuseppe Annuale Via del Branco 6 Telefono 041 44 0341 Cerca gli alberi di Natale dal Cine Vi troverai le sorprese più belle Sono a San Fiore Pordenone Motta di Livenza Udine Ponte nelle Alpi E ti offrono a prezzi scontatissimi Tutto l'abbigliamento per l'inverno e per le feste Per l'uomo Donna e bambino Nel più vasto assortimento Regalati un bel Natale Scegli i negozi dal Cine La firma del risparmio A San Fiore Pordenone Motta di Livenza Udine Ponte nelle Alpi I negozi dal Cine a dicembre Sono aperti tutti i giorni Anche festivi Allevamenti moderni e selezionati Attenti controlli sanitari Ed il ciclo alimentare Sono le garanzie delle carni Copro Zoo Finalmente sulla vostra tavola Il sapore ricco e genuino Della carne allevate in modo naturale Dai qualità alla vita Scegli una carne garantita Copro Zoo Cooperativa fra produttori zootecnici Della marca Trivigiana Non lasciare la tua pelliccia e il tuo montone Chiusi nell'armadio Scegli il buon gusto Usa il buon senso Strappi Macchie Scuciture Consumo Fuori moda Non sono un problema Noi produciamo artigianalmente Qualsiasi capo in pelle Ma garantiamo anche la perfetta esecuzione Di qualsiasi riparazione Rimessa e pulitura Portateci pure le vostre pellicce E i vostri montoni Per lì renderemo belli e puliti Come un capo prodotto da noi Parola di Rodolfo Cunial Funiale Emporio Pelle E' alta moda alla portata di tutti Montoni e pellicce direttamente dal creatore Il meglio del buon gusto E il massimo del buon senso Finalmente si esce Cagnoni Rovigo Petrarca Padova Scavorini Aquila Mediolanum Milano E tutti i colori più massicci della Uno Arriveranno qui A Monico Ma sarà ancora il verde del Benetton Requi Il colore più visto nelle aree di meta Due finali consecutive a uno scudetto Anche quest'anno Grine e Suoi Vi faranno soffrire fino al termine del torneo 91 Domenica prossima L'appuntamento è con Benetton contro Cagnoni Rovigo Ore 14.30 Petreria Falegnameria Zanatta Recupero serramenti con cambio della lastra comune a vetrocamera Con doppia sigillatura Applicazione delle guarnizioni Sigillatura di cassonetti Con coibentazione contro tutti gli spifferi E tutto presto, bene e con garanzia Tra dentro e fuori Vetrate isolanti di sicurezza Zanatta A Montebelluna Telefono 0423 30 25 51 Ogni martedì e mercoledì alle 21.10 Potrete viaggiare con noi e conoscere le spiagge, l'arte, le città della provincia di Venezia È una produzione AMP Treviso e amministrazione provinciale di Venezia Ogni martedì e mercoledì alle 21.10 Antenna 3 Veneto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Commerciale ed il Nova SNC Correggendora naturalmente dal caldo, dal freddo, dal rumore È un prodotto distribuito da Commerciale ed il Nova SNC Via Colombo 2, Iesolo Telefono 0421 95 16 42 Nuovo Philips Discover Davvero fuori dal normale In vendita da Falcon a Preganziol Signore e signori Siamo qui per presentarvi una grossa novità Si chiama Movie Movie è unico nel suo genere Perché è cinema, musica dal vivo e non solo È anche ristorante, pizzeria e snack bar Con Movie puoi vedere i film più belli Gustando le cose più buone Movie Grande apertura sabato 15 dicembre In via Fausta a Cassavio, Venezia, Punta Savioni Movie Lo spettacolo ha tutto un altro gusto Il più bel regalo di Natale te lo fa in mobilificio abitare a Borso del Grappa Tutta la merce in esposizione Pezzi bellissimi spesso firmati Camere, salotti, cucine, tassetti A prezzi di assoluto realizzo per totale eliminazione mostra Guardate le immagini Questi sono i mobili meravigliosi che vi offriamo a prezzi di realizzo Questo è il regalo di Natale di abitare Prezzi semplicemente favolosi per pochi pezzi da collezione Per Tomo, Cristalliere, Lastronate, Olivo Siamo aperti anche la domenica pomeriggio Abitare vicino a Bassano, via Morinetto, a Borso del Grappa Oggi ti ricorda le dolci confezioni natalizie Gli Hi-Fi, i computers, i TV Color, gli elettrodomestici Il reparto moda con le ultime novità della stagione Le belle e comode calzature per uomo, donna e bambino Tanti, tanti oggetti per la tua casa E per Natale giocattoli meravigliosi per i piccoli e i più grandi Intergross, il grande magazzino Che per te è assai vicino Ti sollecita mei Intergross, via Montegrappa 40, Vidor Animali e noi Un programma a cura di Gianni Svec Con la collaborazione del dottor Cesare Avesani In onda martedì ore 19 e venerdì ore 14 e 15 Su Antenna Tre Veneto Offerto da Ristorante Pizzeria Amadeus Abano Termi Profumeria Martini Padova Pellicceria De Salvadori Cervarese Santa Croce Arredamenti Fonte del Mobile Padova Qui nella campagna veneta C'è ancora chi ama i sapori di una volta Gli aromi e le fragranze che hanno in essi la tradizione della nostra gente Come i tortellini ferrarese Una vera specialità Fatti con la ricetta originale La sfoglia all'uovo Gli ingredienti naturali E tanto amore per le cose genuine Scegli la tradizione della pasta fatta in casa Tortellini ferrarese Pasta Amore E fantasia Indossa le tue emozioni con capi sportivi ed eleganti per la donna d'oggi Allo Stop Moda Strepitose occasioni per vestire sempre alla moda E attenzione ai favolosi sconti sui capi con l'etichetta rossa Stop Moda Market Chiamale se vuoi Emozioni